Robert aveva due padri, entrambi uomini carismatici e d'onore. Uno era ricco e l'altro povero, anche se non sapevano di essere tali in quanto erano all'inizio delle loro carriere. Uno aveva completato il ciclo universitario in due anni, l'altro non aveva mai finito le medie inferiori. Entrambi guadagnavano bene, ma uno ha avuto problemi finanziari tutta la vita, l'altro è diventato l'uomo più ricco delle Hawaii. Uno sosteneva che il denaro è la radice di ogni male, l'altro che la mancanza di denaro lo era. Non era facile per un ragazzo decidere chi ascoltare dato che avevano idee completamente opposte. Uno gli diceva non me lo posso permettere, l'altro come posso permettermelo? Uno credeva nell'assistenza dello Stato, l'altro nell'autonomia finanziaria. Alla fine Robert decisi di ascoltare il padre ricco, anche se ancora non lo era, nonostante l'altro avesse titoli universitari.